bravo Pietro bravo chiudi 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 vai via troppo lento finiscila adesso il peso dove ce l'hai? dove cazzo ce l'hai il peso? allora quando tu parti a fare queste strette il tempo che tu entri quando ho impostato la prima non fermarti più non fermarti più ogni volta che ti fermi un piede perché ogni volta che devi spostare il peso non fermarti mai piuttosto sbaglia e allarga la falla ma non fermarti bravo peso peso era dentro spalla giù peso giù e sbagli per forza lì bravo pensa che è una salita vai via leggero bravo così quando entri non fermarti mai ogni volta che ti fermi sono piedi che metti guarda i pesi alle spalle a fare con la cazzata lì dopo vai fuori dai cosi però vedi? non ci stai più lo vedi? asteria è riuscito bravo bastardo grande grande si tu riesci anche a tornare indietro bravo 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 Dai! Già? Sì!